Alla fine dobbiamo farlo per il bene della comunità, capisco magari alcune argomentazioni sulla libera scelta, però in questo momento dobbiamo pensare che siamo in una situazione straordinaria e quindi ci vogliono anche delle misure straordinarie e durante i mercatini, nei luoghi affollati, la mascherina la usiamo per proteggere noi stessi e per gli altri. Il timore per la recrudescenza del virus convince i vicentini che oggi abbiamo sentito sull'opportunità dell'uso delle mascherine all'aperto nei luoghi affollati per Natale, ma non solo, il giro di vite previsto dal governo a breve sul Green Pass rinforzato non solo è auspicato, ma è atteso proprio per convincere chi ha scelto di non vaccinarsi. Condivido perfettamente. Green Pass rinforzato? Certamente. E quindi anche un giro di vite verso i Novax? Magari renderli un attimino un po' più responsabili in questo senso, però finché non è obbligatorio in realtà. E mascherine all'aperto per Natale? Sì, per me sì. Nei luoghi affollati sì, nei luoghi affollati sì. Ce l'ho sempre in tasca, adesso è un momento che non ce l'ho perché logicamente siamo all'aperto, sono da solo, però sono d'accordo anche per le mascherine. Dobbiamo cercare di uscire nel più presto e cercare di tutelarci tutti per la nostra salute. Io sono d'accordo sinceramente comunque come misura perché alla fine dobbiamo vaccinarci per la comunità, anche non solo per noi stessi. Le mascherine per Natale, i mercatini per esempio? Mascherine sempre, mascherine sempre. Finché perdura l'emergenza io direi di sì. Piuttosto di non chiudere, anche le mascherine sì, perché no? La cosa più corretta sarebbe però che il vaccino fosse in qualche modo reso obbligatorio e avere fiducia anche nella medicina e non su strane idee. Io vado, sto già scritta per la terza. E purtroppo tutta la mia famiglia si vaccina e nessuno di noi avrebbe voluto vaccinarsi perché purtroppo un vaccino, ok, dà fastidio a tutti, però io sono convinto che questo ci aiuterà a uscirne fuori. Sono delle misure che uno deve adottare per provocare una reazione. Non piace, non è che uno sia felice di obbligare, però veramente siamo in una situazione limite.